Ciao amici, con la stagione fredda torna il nemico numero uno, la macchina che non parte al mattino? Per chi guida, per tutti invece il nemico numero uno è l'influenza che ogni anno costringe a letto diversi milioni di italiani. Oggi vediamo cosa dicono gli esperti per fare prevenzione in modo naturale. Per sapere come fare mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'influenza 2018-2019 colpirà oltre 5 milioni di italiani. I sintomi saranno febbre alta, sopra i 38 gradi, dolori muscolari e delle articolazioni, tosse, congestione nasale, raffreddore e mal di gola. Ecco alcuni trucchi utili per prevenire l'influenza. Uno, igiene personale. Ma cosa c'entra? Sembra scontato, ma ogni giorno le nostre mani toccano oggetti, ambienti, mezzi pubblici, eccetera, quindi lavare bene le mani una volta arrivati a casa, ma anche in ufficio, a casa di amici, al bar. Utili anche il gel disinfettante per le mani e le salviette igieniche per pulire le superfici dove lavoriamo o ci sediamo. Due, buone maniere. Ma oggi spari consigli a caso? Hai presente quando uno ti starnutisce addosso? Se normalmente è solo disgustoso, durante il periodo dell'influenza è anche rischioso. Siamo i primi a dare il buon esempio, starnutendo e tossendo nel fazzoletto, lontano da altre persone e gettando appena possibile i fazzoletti usa e getta. Tre, alimentazione. Una giusta alimentazione aiuta il corpo e il sistema immunitario a difendersi meglio. Potete seguire i consigli della mia playlist dove trovate le migliori tisane, le abitudini pro e contro, i rimedi naturali e molto altro. Il link è in descrizione, andatele a vedere, mi raccomando. Durante tutto l'autunno e inverno pubblico tanti video su questo argomento. Per vederli tutti iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Se YouTube non vi avvisa andate nelle a home del canale perché pubblico ogni giorno. Vivi sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!